Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Oggi Sebastian Vettel parte dalla pole position davanti a lui. Non c'è nessuno che possa disturbarlo e Valtteri Bottas prende posto accanto a lui. E ora vediamo il resto della griglia. Gasly, Verstappen, Charles Leclerc e Hamilton. Perez, Stroll, Volkenberg e Kevin Magnussen. Sainz, Grosjean, Daniel Ricciardo e Norris. Raikkonen, Giovinazzi, Alexander Albon e George Russell. Kiat, infine Robert Kubica, relegato all'ultimo posto. Ok, la ruota per turno 1 non è molto lunga, quindi il pack sarà sbagliato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.